Vedo meno gente in effetti, secondo me però c'è poca gente in giro, penso pure io che magari si aspettavano pure i negozianti di più. A due settimane dall'inizio dei saldi invernali in Campania, la situazione registrata dai commercianti del centro di Napoli non è particolarmente incoraggiante. Dopo le chiusure e le problematiche legate alla pandemia, in tanti si aspettavano uno sprint negli acquisti nel periodo dei saldi, ma le aspettative, ci raccontano alcuni commercianti, sono state disattese dalla realtà. Probabilmente, immaginano, a rompere le uova nel paniere sono stati gli acquisti online e le stagioni scontistiche digitali. Tra Black Friday e Affini, infatti, anche i tradizionali saldi nei negozi fanno meno gula agli occhi di chi può comprare da casa o dal cellulare con un click. Si deve cambiare un po' la politica, altrimenti i nostri negozi fisici, a prescindere dai saldi, lavoreranno sempre in meno. Diciamo che questi primi due giorni sembravano partiti bene, abbastanza bene, però poi al momento ci siamo un attimo calati. Nelle vendite e tutto il resto non sappiamo neanche noi darci una spiegazione, anche perché un po' un maltempo, un po' di gente che comunque manca, è una spiegazione che neanche noi sappiamo darci all'interno dei punti vendita. Il problema, però, concordano alcuni commercianti, acquirenti, è anche di natura strettamente economica. Secondo me è una questione economica, c'è sempre una scusa di turno, diciamo, ma in realtà è che i soldi non sempre bastano. Forse diciamo sì, è un po' un problema un po' più economico, perché comunque ci mettiamo pure nei panni delle famiglie italiane, che oggi tanti aiuti dallo Stato non li stanno più percependo. Noi siamo una delle classi che vanno un po' a peggiorare la situazione, vanno a perdere un po' in più rispetto al food e tutto il resto, perché le cose primarie sono sempre cibo, food e tutto il resto e poi veniamo noi che è quasi un lusso. Grazie a tutti.